Allora, bentornati in diretta con Ditola Roma 1 e io ho l'onore di accogliere un ospite, dicevo già in apertura, di casa Roma 1, sempre disponibilissimo, ma per la prima volta insomma in veste di assessore. Non mi sono messo neanche oggi la giacca, ma ringrazio molto Paolo Masini, assessore ai lavori pubblici. Bentrovato. Grazie, grazie a voi. Allora, intanto già, adesso questo non me ne voglia, Fabrizio Ghera che saluto, consigliere di Fratelli d'Italia, però ha sempre negato le sue presenze in televisione in cinque anni, ma a noi e ad altri, questo è un dato gentile. No, è vero, come ospite, come ospite, poi interveniva al telefono, ci ha sempre risposto attraverso l'ufficio stampa, però questo è un dato di fatto. Allora dico, Masini già ha abbattuto Ghera come presenza televisiva, capito? Questo volevo dire. Speriamo di farlo anche nell'attività. No, vi ringrazio perché insomma Roma 1, anche nei momenti diciamo più delicati che ha passato questa televisione in sede o qualche articolo del giornale, credo che sia invece una televisione importante, pertanto mi fa piacere tornare in altre vesti. Grazie molte. Lei invece, Masini, si è già pentito di questo assessorato e Marino potevi darmi... Oddio, non è che ci sia una grande scelta, c'è la casa, il bilancio, però va bene, i lavori pubblici come si trova? Dopo i cento giorni sono quasi passati, assessore. Credo siano oggi, credo siano oggi. No, come dire, almeno per come intendo la politica io l'ho intendo come servizio, pertanto se il sindaco Marino lo ringrazio ancora per avermi dato questa opportunità, perché governare la città dove si è nata e dove si abita credo che sia un'esperienza più bella che si possa avere e se ha pensato di darmi queste deleghe credo che un motivo ci sia e lo sto scoprendo man mano, soprattutto rispetto ad alcuni settori. Intanto la conoscenza della città, no? Poi l'assessore ai lavori pubblici, insomma, ha una competenza molto importante su tanti fronti. Ora andremo un momento nel dettaglio anche con le ultime dichiarazioni che ha fatto Paolo Masini, ad esempio sulle buche, sulle strade, sulla manutenzione, anche con molta cautela. Io ho letto che lei, insomma, prima di sparare proclami in una città come Roma, mi è sembrato cauto, no? Dice qui dobbiamo studiare, capire cosa è stato fatto in cinque anni. Dopodiché immagino le sollecitazioni, ad esempio, dei municipi. Funziona così Masini? Cioè uno dal municipio dice Masini, manda a noi qualche risorsa che abbiamo un'emergenza più emergenza del vicino. Infatti. No, in parte è così, poi, insomma, come è noto io vengo da un'esperienza lunga, esperienza municipale, 13 anni in un municipio di Roma prima di andare in consiglio comunale e so benissimo cosa patiscono i municipi ed è giusto che si faccia un vero decentramento. Ora si è fatto un piccolo passo in avanti verso Roma Capitale, ma in realtà non ci sono né fondi né strumenti ad oggi. Noi dovremmo portare in aula a consigliare il bilancio, mi auguro, verso fino a ottobre, sperando che il governo ci dia una mano, e in quel momento mi auguro, anzi ne sono certo, è anche intenzione del sindaco Marino, di dare per ora fondi ai municipi. Io mi auguro che a livello legislativo si porti alla chiusura, alla riforma di Roma Capitale e si diano veramente anche armi e strumenti concreti per governare il territorio. Oggi ci tornava condivisibilissimo Andrea Garibaldi sul Corriere della Sera, sul dorso romano, tra realtà e annunci, e puntava di nuovo sul decentramento come strumento per far sì che ciò nei cittadini ogni giorno venga risolto prima, al meglio, è d'accordo, diciamo, idealmente su tutta lina? Assolutamente sì. Servono i fatti però, no? Sì, assolutamente sì. Voglio dire, ho fatto 13 anni appunto, il consigliere municipale a volte è umiliante incontrare poi l'ente di prossimità più immediato. Pertanto ogni volta che esci di casa, sia per fare la passeggiata con i figli, per andare a comprare il latte, incontri molte persone che ti conoscono e ti pongono dei problemi reali e concreti e magari non hai gli strumenti per risolverti. Pertanto a volte è anche, come dire, umiliante per i consiglieri. Io mi auguro che si giunga presto a una vera riforma perché poi Roma è una città così importante e complicata da governare che è necessaria per governarla. Poi all'interno di questo credo che sia opportuno parlare di città metropolitana. Ormai l'idea che abbiamo in mente di Roma Capitale è un'idea vecchia, desuita, che parla solo all'interno dei confini appunto del raccordo. Come sappiamo bene Roma che è altra roba, respira molto di più. Ogni giorno entrano ed escono da Roma circa 400 mila abitanti che sono all'incirca gli abitanti dell'Umbria. È come se ogni giorno l'Umbria entrasse in Roma e riuscisse come abitanti. Pertanto va fatto un discorso più generale che coinvolga appunto anche vicende importanti come la sanità, i trasporti, quanti sono determinanti i trasporti per un osmosi così importante giornaliera. E credo che su questo anche il Presidente Zingaretti sia dando un'accelerata rispetto al passaggio di alcune competenze. Pertanto se si va in questa direzione è bene che ci sia il decentramento. In particolare in un momento in cui, lo voglio sottolineare, non si dice molto ma è da sottolineare, poi voi con la trasmissione che fate ve ne rendete conto settimanalmente. Abbiamo messo in campo come centrosinistra una squadra di presidenti giovani, bravi, frutto del territorio, grazie alle primarie. Io mi auguro che anche il centrodestra arrivi a fare le primarie. Io prendo l'esempio, il più giovane è stato qui venerdì scorso alla ripresa di Foro Romano. Valerio Barletta, preparatissimo, bravissimo, però anche a lui ho detto questa ora è una grande responsabilità per tutti voi, perché insomma poi passati 100 giorni, 200 giorni, 300 giorni Romano vede i fatti. Ad esempio siamo nella stagione più o meno delle piogge, non monsoniche, però a Roma poi piove. Quanto è preoccupato per lo stato delle caditoie e gli allagamenti futuri, che ci saranno comunque, bisogna vedere quanti? Sì, preoccupato abbastanza, ma sicuro con il mio staff che stiamo facendo il meglio. Perché? Perché a parte c'è un doppio problema di base, insomma, da una parte l'eredità, ma non voglio dirlo molto, lo diciamo per i primi mesi, non voglio fare come Alemanno che alla fine del mandato ancora parlava di Veltroni, di un'eredità pesante che riguarda sia il manto stradale sia quello che riguarda le caditoie, perché non si pulivano in maniera importante da tempo e magari più tardi darò qualche elemento in più. E poi con un problema oggettivo che è quello della capacità di assorbimento della nostra rete. È chiaro che una bomba d'acqua, come abbiamo chiamato quella di fine agosto, che ha scaricato su Roma 72 mm in meno di un'ora, in circa 50 minuti, è il quarto dato da 70 anni a questa parte. È chiaro che quelle bombe d'acqua non saremo in grado praticamente mai di assorbirle. Però noi rispetto a questo abbiamo voluto, in tempi non sospetti, in primo luglio, quando c'era il sole alto e si pensava di andare al mare, cominciare una campagna di monitoraggio importante con il coinvolgimento dei municipi, dei comandi della municipale, dell'AMA e dell'ATAC, per capire quali fossero le criticità dei tombini delle catetorie di Roma, che purtroppo ci fanno diventare spesso questa città come una città non degna di una capitale mondiale. Abbiamo fatto, credo, a fine luglio la prima riunione. Il 12 agosto, il 7 agosto, abbiamo trovato con il sindaco Marino, con grande sforzo, mi potete immaginare, con l'assessore Morgante, 3 milioni e mezzo di euro, per fare un intervento straordinario, per dare un'idea, 3 e mezzo è l'intervento più importante degli ultimi cinque anni, l'ultimo anno c'era un milione e poco più di euro su questo tema. Facciamo questa riunione, convochiamo le otto aziende, le imprese che hanno gli otto lotti su Roma rispetto alla monotenzione e poi cominciamo un percorso che è basato, credo se si stiano già vedendo alcuni ritorni di questo, sul rigore. Cioè, noi non paghiamo... Scusi, assessore, gli otto lotti, gli otto appalti derivano poi da quella che fu la scelta invece dalle mani, bisogna dire che ruppe il maxi appalto Romeo, dicendo così non funziona, diamolo a più ditte e monitoriamole, controlliamole. Poi, insomma, cosa è successo? Adesso questo dal suo punto di vista cosa ha trovato, no? Ha riunito queste otto aziende e dice allora andiamo a vedere dove sono le criticità e cosa... Questo con i cittadini, poi c'è anche un passaggio con i cittadini che forse interessa i nostri ascoltatori perché oltre ai passaggi, come dire, istituzionali con tutti coloro, anche con le associazioni dei motociclisti e degli automobilisti che utilizzano le nostre strade, abbiamo chiesto ai cittadini romani, e sarà attivo fino al 30 ottobre, di dirci le criticità. Abbiamo aperto una mail che si chiama liberaeltombinochiocciolacomune.roma.it e in più lo 060606, che è il numero storico del Comune di Roma, è a disposizione per la segnalazione. Delle criticità, ripeto, è impossibile intervenire. A Roma ci sono 500 mila tombini. Liberaeltombinochiocciolacomune.roma.it Cioè lei sta dicendo che se io adesso vado a casa, trovo intasato quel tombino, mando una mail, qualcuno mi darretta, mi ascoltano? Intanto rispondiamo, innanzitutto. Poi, sul liberare il tombino, noi abbiamo fatto una griglia, ripeto, con i protagonisti di cui parlavo prima, per vedere se quella è veramente una criticità. Lo dico perché Roma ha 500 mila tombini. Per intervenire tutti servirebbero altro che 3 milioni e mezzo di euro. Noi invece possiamo fare un intervento parziale, all'incirca su un 10% delle catitoie dei tombini romani. Pertanto magari è sfuggito all'occhio vigile della municipale o dell'ufficio tecnico o qualche catitoia particolare. Noi andiamo a verificare la criticità di quell'intervento e interveniamo. Interveniamo in maniera particolare. Questo è un piccolo esempio dell'approccio che stiamo dando ai nostri dipartimenti. In che modo, poi sentiamo, cominciamo a sentire telespettatori, grazie a Masini che è disponibile. Ecco, in che modo particolare? Anche solo controllando, senza andare in loco, si può vedere che tipo di problema è? O bisogna comunque mandare gli operai? No, noi mandiamo gli operai. Innanzitutto nella mail chiediamo laddove possibile di segnalarci che tipo di problema ha. Perché c'è un doppio problema sulle catitoie, appunto la parte superiore che è relativa alla pulizia, che l'AMA fa o dovrebbe fare, e la parte sottostante che riguarda appunto un'occlusione o comunque un problema di pulizia dei tombini. Pertanto varia anche il tipo di intervento. Ma per l'intervento particolare intendevo questo. Noi abbiamo impostato il lavoro di questi anni da subito sul rigore. Noi non paghiamo le imprese con i soldi del Monopoli, come dico io. Sono soldi veri, frutto anche della fatica dei nostri cittadini che pagano le tasse. E vogliamo che ogni euro che esce dal nostro bilancio, conquistato con fatica, perché va sicuro che è un momento delicato rispetto a questo, vada a finire nei lavori pubblici per i cittadini e per la comunità. Per questo a dicembre presenteremo un piano importante, un decalogo sulla lotta alla corruzione e contro le infiltrazioni della malavita dei nostri appalti. Beh, questa è una notizia che ci sta dando. Noi siamo sempre a caccia anche di notizie, no? A dicembre si presenterà un decalogo... Un decalogo importante sul quale stiamo convolgendo tante realtà, sia delle associazioni dei cittadini, sia della lotta alla malavita, sia appunto degli imprenditori e delle parti sociali, ai quali chiederemo appunto di firmare un protocollo di intesa importante sul quale stiamo lavorando. Oltre questo, che è una cosa in itinere che però sta andando molto bene, diciamo, e sta riscodendo anche molto consenso da parte delle varie realtà, abbiamo fatto nello specifico i tombini una cosa particolare, che a Roma non era mai stata fatta. Innanzitutto abbiamo modo di, come dire, di monitorare, di avere, di numerare tutti i tombini di Roma. Non era mai stato fatto, noi stiamo applicando, grazie al contributo anche di Ama, un lavoro che si stava appunto concludendo. Numerare i tombini? Noi non è possibile che si intervenga, diciamo, beh, c'è un tombino rotto a Via Tal dei Tali. Ho capito, però Via Tal dei Tali ce ne ha 20 di tombini. Allora noi li numereremo. Razionalizzazione, dice molto. Già li numeri e faremo uno storico. Per esempio, nei tombini dove stiamo intervenendo, ci sarà uno storico. Il tombino, di 900 mila. Siamo già intervenuti al tombino numero 4. Quel giorno abbiamo trovato quel tipo di problema. Quindi non è che si riparte da capo. Bravissimo. Lo sa che i tombini li rubano anche a Roma, no? Bisognerebbe anche assicurarli, in tante zone stanno portandoli via. Stiamo pure verificando la possibilità di farne uno in un altro materiale, ma su questo fa parte dell'innovazione. Le quattro parole chiave di questi anni saranno appunto innovazione, partecipazione, sviluppo e trasparenza. E rispetto alla trasparenza abbiamo fatto, abbiamo voluto, come dire, obbligare, tra virgolette, alle nostre imprese una cosa che non era mai stata fatta. Ogni intervento, su ogni caditoia o tombino, segnalata da noi, non è che si, ma segnalata da noi perché abbiamo fatto questo grande lavoro di monitoraggio anche con l'aiuto dei cittadini, le imprese dovranno fotografare in maniera, appunto, con una fotografia geolocalizzata, pertanto sapendo esattamente dove hanno fatto l'intervento, e gli abbiamo chiesto di imprimere sopra il tombino con una maschera, con una vernice, con una mascherina relativa all'otto per l'otto, che in quel tombino si è intervenuti. Se non abbiamo queste due cose, foto geolocalizzata e marchio sul tombino, noi non paghiamo le imprese. E se su quel tombino, fra due mesi, dovesse succedere che non assorbe l'acqua, probabilmente c'è, come dire, un'imperizia di quell'impresa, e probabilmente questo influirà sui bandi prossimi, diciamo. Noi crediamo che, soprattutto a Roma, in Italia, ma soprattutto a Roma ci sia un stato, un rapporto con le imprese un po' malsano, apposta la leghiamo alla lotta alla produzione. E questo è un meccanismo, spero che abbiate seguito bene, un po' complesso, ma poi alla fine si segue, insomma, un meccanismo che per la prima volta, forse, obbligherebbe, insomma, queste imprese, a dover rendere conto davvero all'amministrazione, perché noi sappiamo, invece raccontiamo da anni, un'amministrazione debolissima nei confronti delle imprese, che può giusto alzare la voce, ma non fa paura a nessuno. Guarda, io credo che uno dei motivi, se si inverte questo trend, siamo tutti felici. uno dei motivi per il quale molti a Roma, quando ho avuto appunto, quando il signor Marino mi ha chiesto di seguire questi due temi, che è quello delle periferie e quello dei lavori pubblici, sono rimasti sorpresi. Credo che una delle cose che abbia influito su questa scelta di Ignazio Marino ci sia il fatto che la mia campagna elettorale è fatta con pochi fondi, venuti dal finanziamento di tanta gente, ma con pochi fondi, tra l'altro versati su banca etica. Perché dico questo? Perché uno dei mali assoluti della politica è il fatto che in campagna elettorale i cosiddetti poteri forti foraggiano quella campagna elettorale perché poi magari in cambio, attraverso una delibera, attraverso l'opportunità di costruire dove non puoi, attraverso chiudere un occhio su un lavoro, un fatto o un fatto male rientrano. Probabilmente questo fatto di non avere le mani legate da fondi poco graditi o poco gradevoli in campagna elettorale abbia influito sulla scelta di Marino. Senta, assessore, adesso i telespettatori, però io ho detto se lo diciamo noi, poi si allarga, attenzione, comunque mettete alla prova l'amministrazione, siamo abbastanza allargati a noi. Già ne arrivano di mail, credo. Si è bloccato dopo due ore del servizio del TG3 regionale. Allora, il servizio del TG3 lo fa bloccare, vediamo cosa capita con uno a uno. Allora, libera il tombino, eccola qua la mail, se avete, sa quanti ci chiamano per questo, lo sa bene Masini, un problema sotto casa, libera il tombino at comune.roma.it Poi una cosa rapidissima, io impazzì quel giorno, ricordo, ma anche successivamente, quando fu presentato, ci ho anche fatto molta ironia, vabbè, perché poi è sparito questo gigante, l'elefante, qui era nel sito del sindaco Alemanno, ma lei l'ha più visto questo mega aspiratore galattico che avrebbe dovuto risolvere, fu presentato più o meno così, i problemi della città, poi ognuno mi diceva, ma io veramente non lo so, dov'è, non lo vediamo. E questo è il 2009, è sparito questo? No, no, probabilmente al bioparco, no, scherzi a parte, l'elefante esiste, è uno degli strumenti che utilizziamo appunto. Perché era un bel vedere quando lo abbiamo visto. L'elefante è il canal jet, sono i due sistemi, uno di aspirazione, invece uno di pressione appunto, per liberare i tombini. L'elefante esiste, fa parte appunto di un impegno assunto dalla passata amministrazione. Ma qual è il problema seriamente? Masini è che costa molto attivarlo. Beh, l'elefante costa parecchio di suo, il problema, la questione appunto, andare a fare solo, capire di che tipo di intervento c'è bisogno, a volte c'è anche come è successo a termini, e di questo stiamo facendo, come dire, chiedere chiarimenti importanti a ferrovie dello Stato, come è successo a termini. A termini abbiamo trovato una situazione nel quale, come dire, lo sfogatoio dell'acqua era tappata. Tanto l'acqua giustamente, diciamo, rimaneva, no, in superficie. E anche il fatto di aver fatto una riunione, come dicevo prima, sono state 100 persone in dipartimento, dove abbiamo chiesto a tutti i municipi, alla Polizia Municipale, all'AMA e all'ATAC, che ci ha segnalato giustamente di intervenire in prossimità delle fermate dell'autobus o delle metro, e a ferrovie, ci consente di responsabilizzare tutti gli attori che concorrono alla gestione della cosa pubblica. Perché non si può dire, vabbè, però, sai, l'AMA non c'era. No, l'abbiamo messo tutto intorno al tavolo, ci sono delle responsabilità precise di ognuno, e da lì si parte. Però Masini, fin qua, io la sto seguendo veramente con grande interesse, e mi auguro davvero, della possibilità di, insomma, obbligare, vien da dire, queste ditte a fare il loro lavoro per bene. Però poi ho letto, lei lancia questa applicazione, un'app sullo smartphone, segnalateci i problemi, segnalateci le buche, arriva dopo tanti, adesso non parlo di noi, ma ci sono tantissimi già siti, applicazioni, ma non è già sufficiente, lei che è uomo di mondo e di Roma e conosce benissimo i municipi, ma non basta sentire i municipi e dire, ragazzi, dov'è che dobbiamo intervenire, perché qua, voi sapete dov'è il disastro, maggiore, no? Cioè, è un po' immagine, no? Io credo che sia una buona percentuale, quello anche perché poi i municipi sono appunto, come dire, il riferimento più diretto dei cittadini, pertanto in parte c'è quella questione, ma io credo, e lo stiamo vedendo, rispetto anche all'amministrazione passata, quello che è mancato è stato fortemente il rapporto con i cittadini, io sto vedendo in questi pochi mesi di lavoro che è mancato anche l'ascolto minimo, pertanto noi, come dire, vogliamo attirare attraverso l'applicazione, l'applicazione è uno strumento anche di dialogo diretto, io rispondo quotidianamente, come sanno i me, quelle della mia segreteria, anche le tre di notte, ma tutti i cittadini che mi scrivono, credo che questo rapporto sano con i cittadini di essere una cosa normale. Lei dice psicologicamente anche sentirsi rispondere, magari, gentile cittadino, abbiamo letto la tua mail, siamo a questo livello, già è un segno di vita quello, però al di là di questo, a volte ci può essere anche una segnalazione immediata di un cittadino che passa là e dice, guarda, sei aperta una buca lì, e anche su questo, noi, così vi do un'altra data, noi faremo un convegno prima di dicembre, importante, perché a dicembre, ecco, drammatiche queste, queste sono immagini sempre verdi, le conosco bene perché gira in moto, immagini sempre verdi, d'archivio, noi faremo un grande convegno dove insieme all'università, insieme alle associazioni dell'handicap, delle vittime della strada, delle parti sociali, degli imprenditori, studieremo anche, come dire, l'innovazione, quella che dicevamo prima, per fare due esempi, innanzitutto vorremmo arrivare, non so se ci riusciremo mai, però vorremmo arrivare nell'arco di questo periodo nel quale governeremo Roma, che i romani non tornassero più dalle vacanze e dire, ah, però, perché a Parigi le strade, perché a Viena, vorremmo arrivare, che almeno si dica di meno, diciamo, e più che altro ci mettiamo tutte le nostre forze affinché i soldi pubblici finiscono in lavori, e ne faccio un'altra estate che è già un impegno particolare, mi sembra di capire, per questa città, e poi, per dare un esempio, noi stiamo vivendo un momento un po' brutto a Roma rispetto alle voragini, si continuano ad aprire voragini, soprattutto nel territorio dell'ex sesto. C'è anche un sito amico che salutiamo, voragini.it, che monitorano anche loro, ce ne sono decine, perché in sesto, voragini è diverso dalla buca, è proprio un cedimento strutturale, anche importante, nel sesto e nel sesto municipio ci sono alcune situazioni davvero imbarazzanti, nessuna che crea problemi di stabilità ai palazzi, per carità, però bloccano le strade, bloccano i commercianti che non possono più fare la propria attività perché spesso la strada è chiusa. Pochi giorni fa, tolta la buona notizia che avvia Comandini in ventesimo municipio nella famosa voragine stiamo chiudendo in collaborazione con Acea quella vicenda che va avanti davvero da troppo tempo, noi in quel municipio appunto dove è Presidente Gianmarco Palmieri, lo ringrazio perché è un altro dei giovani presidenti e brillanti, dove appunto Presidente Palmieri abbiamo coperto una voragine con materiale ricoeso. Cosa significa? Anziché utilizzare il materiale... Si ricorda la via perché lì ne trattammo un paio, quella vicina a un mercato che aveva bloccato la strada, vabbè, poi la recuperiamo con la Centini perché se c'è un aggiornamento lo dobbiamo usare. No, vabbè, ma questo è uno dei primi imprenditi che abbiamo fatto, a inizio luglio. L'avete riprita con materiale? Ricoeso. Allora, in genere, per gli amperi e le nostre voragini si utilizza materiale appunto frutto di cavatura, non dalle cave. Certo. Invece, viva Dio, visto che tra le mie dele che tra l'altro oppure la città dell'altra economia è venendo un po' dal mondo appunto del riuso o comunque dell'utilizzo sostenibile delle risorse di questo mondo, il materiale ricoeso che fa? Anziché andare ad acquistare nuovi prodotti e andare a cavare altre montagne, pertanto un problema anche ambientale, il materiale ricoeso ti permette di utilizzare materiale di risulta in parole e parole di calcinacci di quando ristrutturiamo casa e attraverso una lavorazione, ricondurlo appunto a una composizione anche granulare opportuna rispetto al lavoro che si deve fare e riportato e riportato in una densità utile per coprire le voragini significa che noi in pratica in soldoni volendo anche le tante discariche della campagna romana di calcinacci in soldoni noi abbiamo tolto da una discarica un pezzo di problema perché abbiamo tolto un bel po' di calcinacci e abbiamo ricoperto una voragine abbiamo in parte risalvato l'ambiente non abbiamo consumato altri soldi perché piccolo particolare questo materiale costa il 70% di meno di quello che veniva utilizzato prima pertanto anche strumenti di innovativi creativi un po' creativi questo non ci manca diciamo la creatività questo lo trovo giusto quando ci sono ci possono consentire di risolvere anche in maniera intelligente i problemi sulle voragini c'è un problema importante noi stiamo chiedendo appunto aspetti un attimo assessore allora io vede poi prendo tempo ma anch'io amo chiedere ascoltare abbiamo sacrificato i telespettatori magari se possiamo fare allungare poi di 5 minuti la sua presenza però cominciamo a sentirli chi c'è in linea pronto buon pomeriggio per l'assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Paolo Masini pronto? pronto buonasera signora buonasera prego dica pure grazie mille per il vostro interesse allora io ho chiamato perché via Angelo Bianchi con tutte le traverse di via Angelo Bianchi specialmente angolo via Augusto Paperi i domini sono tutti pieni di terra quindi quando piove forte visto che stiamo alla discesa non possiamo uscire neanche di casa perché si allaga tutto dove sta? allora siamo io già l'ho trovato con Google Maps siamo vicino alla casilina via della tenuta di Torre Nova quindi succede che si allaga tutta la via via Angelo Bianchi e c'è Angelo Via Augusto Paperi eccola qua la facciamo anche vedere signora anche da come lei lo chiede guardate qua tra l'altro vabbè qui c'è un problema credo su questa su questo ingresso di questa casa comunque la signora lo dice concitata perché teme le piogge insomma si allaga tutto qua allora guardi signora come spiegavo prima non so se già era in collegamento noi abbiamo abbiamo attivato una mail dove se vuole adesso ci da bene abbiamo i suoi riferimenti ah ok se ci da nello specifico magari ripeto siccome vogliamo ottimizzare al meglio i soldi che abbiamo e non se non è utile farlo in tutta la strada non lo facciamo lo facciamo solo in quelli intasati intasati concretamente lei o manda la mail oppure attraverso la redazione di Roma 1 appunto ci segnala noi la giriamo alle squadre che stanno intervenendo e ripeto se è una criticità come tra l'altro mi sembra lei ci segnala ampiamente nei prossimi giorni faremo intervenire le squadre anche perché è una strada credo in pendenza quindi in discesa da questa parte immaginiamo allora anche per le condizioni in cui è quindi questa è una segnalazione che Masini e i suoi uffici raccoglie da titolo a Roma 1 no? assolutamente sì la prima di questa stagione diceva l'ho interrotta un minuto poi pubblicità poi resta ancora qualche minuto con l'assessore sulle voragini diceva sulle voragini è un problema importante che si sta anche un altro tema rispetto a quello che è avvenuto lo dicevo sulla bomba d'acqua è la tropicalizzazione del clima in questo paese in questa città e pertanto c'è un problema anche diverso che dal passato le voragini credo che probabilmente risentano anche di questo noi nel nostro bilancio non abbiamo un capitolo di spesa specifico sulle voragini noi con la ragioneria generale stiamo chiedendo poi sarà altro tema riempirlo di fondi diciamo però abbiamo stiamo chiedendo che ci sia un capitolo di spesa specifico perché c'è un problema importante sul Roma ripeto senza nessun allarmismo di sicurezza delle persone molto serio molto serio anche perché a volte se in uno dei sistemi che stiamo anche provando di utilizzare con con l'università appunto quello attraverso i sonar di capire la situazione sottostante dei nostri territori e delle nostre strade magari in qualche caso prevenire ci consente di evitare voragini ripeto anche importanti che possono avvenire ci fermiamo piccolo break restate con noi qualche minuto ancora per voi telespettatori la possibilità di chiamare in dire appunto l'assessore Masini 065910285 torniamo subito